Sessantatré giorni dopo la sfortunata finale persa con la Carrarese, torna in campo il Vicenza di Stefano Vecchi affronta il Legnago, rivelazione della scorsa stagione, ora in panchina. C'è Daniele Gastaldello al posto di Massimo Donati, parte forte il Vicenza con la prima occasione, Rauti tocca per Greco destro, conclusione poco efficace, bello l'inserimento, replica subito il Legnago con Rossi in area, Mancino che spaventa Confente. Questi i primi due spunti della partita, al 39esimo riceve Rauti, sposta palla, destro a giro, bellissimo! Il Vicenza passa con la magia del classe 2000, prelevato in prestito dal Torino, da riapprezzare la grande giocata, tiro all'angolino. Finale di primo tempo, continua a spingere il Vicenza, Decolle davanti a Toniolo, lo beffa con un tocco che passa tra le gambe del portiere del Legnago. 1-2, terribile del Vicenza che raddoppia, grande palla di Carraro, un altro dei volti nuovi e Decolle punisce l'uscita di Toniolo. Nel secondo tempo però arriva forte la reazione del Legnago, che davanti ai propri tifosi Alessandrini vuole fare bene sugli sviluppi di calcio d'angolo. Zalandrea sfiora il gol, c'è anche qualche polemica per un presunto contatto sul secondo pallo, poi ancora Zalandrea stavolta con il Mancino e si distende Confente. Al cinquantacinquesimo premiati gli sforzi del Legnago, sponda di noce, Rossi con una rovesciata stupenda. Grandissima coordinazione per il prodotto del settore giovanile della Lazio. Questa la rovesciata da vedere e rivedere. La partita si complica maledettamente per il Vicenza, anche perché Sandon commette una grave ingenuità. Gianmonito perde un pallone banale, spende il fallo. Andiamo a rivedere la situazione di gioco, trattenuta e seconda ammunizione. Vicenza in dieci, spinge allora il Legnago con lo spunto di Palazzino, cross morbido. Buona guardia Confente, si chiude la squadra di Vecchi nel finale di partita. Il Vicenza riesce a passare il turno e affronterà fuori casa l'Atalanta, Under 23.